eccoci buongiorno a tutte a tutti grazie per essere per aver partecipato a questo a questo evento organizzato da mlol sono qui con con michele corsello delle della biblioteca civica di parma con stefano paglantini della biblioteca civica di bassano del grappa con andrea zanni collega collega di mlol oggi faremo una una carrellata di diciamo sul sul tema del delle biblioteche digitali basate sul sul trip or if inizierò io con un diciamo dandovi un'idea di quello che offre offre la piattaforma mlol in questo settore faremo poi un affondo in due progetti molto belli e appena diciamo conclusi realizzati appunto dalla dalla da coordinati da da stefano paglantini da michele corsello di cui ci racconteranno loro la digitalizzazione del del fondo canova di bassano del grappa e la diciamo la digitalizzazione delle serie storiche della gazzetta di parma realizzata appunto dalla biblioteca civica di parma e infine andrea zanni ci racconterà il dietro le quinte che forse la cosa meno 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 usuale diciamo in queste e meno anche nota diciamo in queste quando si si guardano questi progetti cioè qual è ci spiegherà qual è il il processo che si che si compie per realizzare dei progetti come 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 quelli che quelli che che vedremo questa mattina io inizio condividendo le mie slide che direi questo punto dovrebbero vedersi correttamente ecco allora dedicherò pochissimo mezzo minuto diciamo anche se probabilmente per molti di quelli che ci ascoltano si tratta di una cosa più che nota a al traipoli f ii ii f nel gergo ormai è diciamo in balzo l'uso di chiamarlo traipoli f triplo tripla i f e traipoli f che significa international image interoperability framework è fondamentalmente due cose è uno standard è un nuovo standard che serve a condividere condividere immagini e dunque diciamo i materiali primi dei progetti di digitalizzazione immagini ad alta definizione e serve a costruire dei serve e permette di costruire dei servizi collegati a queste immagini con delle novità molto rilevanti rispetto alla tradizione dei progetti di digitalizzazione che fondamentalmente si fermavano alla realizzazione di un viewer di un sistema che permettesse di navigare visualizzare leggere le immagini prodotti della digitalizzazione oggi questa traipoli f fa due cose inserutto standardizza questo processo e questa è una cosa molto importante chi conosce la storia dei progetti di digitalizzazione in italia sa che questa è anche una storia triste di progetti che sono diventati obsoleti e quindi semplicemente inaccessibili perché realizzati con strumenti che oggi semplicemente non sono più manutenuti di cui non esiste più il software di visualizzazione o cose del genere quindi lavorare con gli standard significa anche preservare la possibilità diciamo di visualizzare in futuro e di fare evolvere i progetti che facciamo oggi quando nuove tecnologie nuove possibilità si renderanno disponibili in futuro ma traipoli f non è solo uno standard è anche una comunità una comunità globale che diciamo si sta sviluppando in tutti in tutti i continenti dove devo dire tra l'altro moltissimo in occidente ma anche in tantissimo in in molti paesi asiatici è straordinario per esempio il contributo che sta dando il il giappone in questo in questo in questo ambito una community globale di istituzioni e sviluppatori che lavorano alla linea di frontiera diciamo di questo standard spingendolo sempre in avanti realizzando diciamo realizzando nuovi progetti e quindi ampliandone ampliandone la portata mlol è da alcuni anni un un membro della 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 del del consorzio traipoli f noi cerchiamo di contribuire in modo diretto a questo a questo questo processo qui avrei una sle una slide in cui diciamo entro un po più nel tecnico tra l'altro io stesso non sono un tecnico ma diciamo vi vi quindi la tralascerò fondamentalmente questa è però vuol dire questo schema vi serve a far capire vi serve a capire che dentro questo standard ci sono fondamentalmente delle api e ce ne sono quattro principali di cui due sono fondamentalmente le più importanti di tutte la image api la presentation api ora al di là del del della della faccenda tecnica che ci riguarda che ci riguarda di queste i piedi che ci riguarda poco quello che è veramente importante capire per chi non è diciamo per chi non ha realizzato ancora progetti con questo standard è che c'è una differenza una singola differenza decisiva tra progetti basati su tre qualif e ogni altro progetto di digitalizzazione questa differenza consiste nel fatto che le vostre digitalizzazioni saranno con non solo condivisibili da istituzioni terze in modo seamless come dicono gli informatici cioè in modo privo di attriti e quasi trasparente invisibile ma terze parti cioè soggetti diversi da voi stessi che avete realizzato il progetto l'avete erogato al pubblico terze parti in modo anche imprevedibile imprevisto potranno sviluppare dei servizi su questi su questi documenti e vedremo che questa è esattamente una delle cose che fa mlol raccogliendo e costruendo una enorme collezione di una collezione di collezioni di oggetti triple if realizzati da istituzioni di tutto il mondo ma appunto perché triple if su mlol qual è il nocciolo per noi noi siamo una piattaforma che diciamo ha come diciamo obiettivo principale la diciamo la distribuzione di contenuti in print commerciali alle biblioteche pubbliche accademiche scolastiche cosa c'entra tutto questo beh mlol anche realizzato storicamente dall'inizio ormai quindi da dieci anni una cosa che noi chiamiamo collezione open questa collezione open è una collezione di oggetti che appunto venivano raccolti indicizzati da istituzioni tutto il mondo e che fa parte stabilmente dell'offerta che noi proponiamo alle biblioteche bene il triple if oggi ci consente di fare far fare un salto di qualità a questa diciamo a questa a questa questa collezione ma non è solo questo il nocciolo su questo faremo degli esempi più avanti il nocciolo è anche l'idea di portare i progetti digitalizzazione dove ci sono gli utenti reali delle biblioteche digitali tutti dicono giustamente che uno dei problemi storici della digitalizzazione è il fatto che sono stati creati infiniti silos questa è la metafora che viene usata silos indipendenti di dati eccetera e di oggetti digitali dal nostro punto di vista questi silos erano anche silos di utenti cioè gli utenti di un progetto realizzato in una città non erano gli utenti di un progetto realizzato in un'altra città e questo è un problema molto e soprattutto gli utenti che davvero utilizzano le biblioteche digitali non avevano un collegamento diretto a questi a queste tematiche allora l'idea e la sfida il tentativo che noi faremo con con l'ol è quello di portare questi questi servizi dove ci sono gli utenti sono gli utenti sono non è una piattaforma che ha un milione e mezzo utenti registrati in tutta italia in alcuni paesi stranieri e ha annualmente più di mezzo milione di utenti attivi quindi la sfida è ha senso portare questi contenuti dove ci sono gli utenti lo vedremo e lo e lo guarderemo l'ol è anche una rete e quindi diciamo portare sulla piattaforma l'ol contenuti tra iphone f anche un sistema per federare collezioni diverse e perché creare un sistema un discovery complessivo globale delle risorse delle risorse tra iphone f come vedrete a noi piace moltissimo l'idea dei servizi collegati agli oggetti digitali vi parlerò ad esempio della della prima del primo oggetto che abbiamo costruito il primo servizio a tutto tondo che abbiamo costruito che la costruzione di storie ecco l'idea è quella che diciamo così come facciamo su un lol per gli altri servizi ci sarà uno sviluppo a ciclo continuo di nuove funzionalità e nuove modalità di utilizzazione di questi di questi oggetti in futuro quindi l'idea è di fare entrare di fare entrare il triple if nel tritacarne diciamo di di sviluppo di mlol continuo e quindi con l'idea di produrre sempre delle delle novità infine disseminazione l'ol è appunto proprio perché una rete permette a tutte le reti che hanno un progetto di digitalizzazione di renderlo noto e comunicarlo a tutte quante le altre reti ovviamente se lo ritengono opportuno e se lo vorrà qui ho una mappa generale vedete diciamo oggi è fatta di circa un migliaio di portali dentro questi portali che cosa troviamo troveremo una collezione triple if globale che proviene tutto il mondo oggi è fatta di circa un milione e duecento mila titoli ma in rapidissima crescita contiamo almeno di raddoppiarla nel corso di 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 quest'anno una serie di servizi che sono disponibili per tutti gli utenti notazioni comparazioni storie e infine per quelli che come negli esempi che vedremo oggi diciamo sviluppo dei progetti propri la possibilità di integrare le collezioni digitalizzate di singole di singole istituzioni ecco diciamo il questa è questa è la mappa generale che cosa significa potenzialmente oggi mloll lo vedete in questa slide è una a una a una struttura bipartita c'è il catalogo delle risorse mloll c'è delle risorse commerciali c'è il catalogo delle risorse open cioè delle risorse digitali che lo raccoglie da istituzioni terze rispetto alla alla singola biblioteca che aderisce mloll ecco quello che noi stiamo facendo adesso immaginare una terza sezione quindi una struttura tripartita di mloll che permetterà agli utenti di trovare all'interno dei portali il catalogo delle risorse commerciali il catalogo delle risorse che provengono da altre istituzioni e il catalogo delle digitalizzazioni proprie realizzate dall'istituzione in realtà questo non è un vincolo noi mettiamo a disposizione questa questo la piattaforma anche per realizzare delle dei siti personalizzati e specifici di progetti anzi quelli che vedremo oggi sono dei siti dedicati esclusivamente tematicamente a due a due collezioni ma la cosa interessante della piattaforma mlole che le due opzioni non sono alternative cioè qualunque progetto che ha anche un suo portale autonomo su un mloll può essere integrato in un altro portale per realizzare diciamo dei progetti di federazione di metadatti ricerca condivisa eccetera 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 dicevo anche mlole uno strumento di disseminazione che cosa succede quando se ad esempio non ne abbiamo non ne abbiamo parlato ma poniamo che il diciamo la biblioteca di bassano la biblioteca di parma decida di rendere eh disponibili questi contenuti fuori dal diciamo dal 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 loro portale specializzato specifico noi quello che può fare mlole è eh portare il queste collezioni nel 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 catalogo open e questo le rende immediata rende immediatamente visibili e ricercabili queste collezioni anche eh per tutti gli su tutti gli altri portali mlole quindi uno strumento potenzialmente di disseminazione immediata dei contenuti sulla sulla rete dei partecipanti di che cosa è fatta la piattaforma tra i pori è su mlole eh è fatta di eh di 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 quattro cose principali e oggi parleremo solo di alcune di queste è fatto anzitutto di un controllo di flusso dei processi di digitalizzazione e dei processi connessi la la diciamo progetti possono iniziare ne parlerà Andrea da digitalizzazioni pregresse o da progetti in corso ecco questo diciamo quindi il primo punto è che la piattaforma deve essere in grado di raccogliere e accogliere il diciamo le digitalizzazioni che provengono da questi progetti c'è poi un componente che si chiama DAM Digital Asset Manager ehm che specifico per AAAF è qualcosa che va molto oltre il semplice il semplice server eh di immagini e diciamo innanzitutto è un diciamo è realizzato sulla base dello standard AAAF e poi consente tutta una serie di funzioni accessori c'è poi tutto il lavoro di gestione dei metadati e su questo dirà dirà eh qualcosa sicuramente Andrea eh anzi molto Andrea e infine eh frontend e servizi quello che vedono eh gli utenti eh gli utenti gli utenti finali quali servizi ehm fondamentalmente ehm oggi i i tipi di servizi di servizi che noi offriamo sono cinque ehm permettiamo di e diciamo forse la cosa migliore è visualizzarli eh con degli esempi quindi interrompo la condivisione e passo alla condivisione di una di una di una ehm passo alla condivisione di un portale in lol eccoci allora voilà adesso dovreste dovreste vedere il portale Emilib il portale della città qui vivo di cui io stesso sono utente ok perché non mi fa eccolo ok perfetto ehm dunque guardiamo ad esempio il guardiamo ad esempio una non so se ho qua delle liste fatte con questo ma possiamo realizzarne facilmente anzitutto guardate la ricerca avanzata se andate nella ricerca avanzata di MLOL troverete un check che mi permette di selezionare i soli oggetti tra i pola EF adesso eh diciamo come sempre in queste occasioni mi verranno delle ricerche piuttosto insensate adesso faccio una ricerca che semplicemente inserisce un filtro data prendo tutti gli oggetti tra i pola EF eh che riguardano gli anni tra il 1500 e il 1550 eh che cosa ho trovato vediamoli tutti ne ho trovati 13.000 ho trovato 5.000 manoscritti 4.229 libri e ho trovato 3.040 immagini per farla semplice userò soprattutto le immagini ehm ok prendiamo painting qui ok adesso prendo non so uno aggiungo questo oggetto ad una lista anzi creo una nuova lista lista di prova la rendo pubblica ok e ho aggiunto questo elemento a una lista adesso ehm prendo ancora un altro oggetto questo di ritratto di desiderio Erasmo e lo aggiungo sempre alla stessa lista di prima lista di prova eccoci ok vado nelle mie liste come? ah ce l'hai già ce l'ho già questa è la mia lista di prova notate che qui ho inserito due oggetti tra i pola EF quando eh all'interno di una lista ci sono degli oggetti tra i pola EF che vengono riconosciuti da questa iconina compare anche questo bottone che è compara documenti cosa fa questo bottone? fa questo cioè apre un viewer in cui entrambe entrambi i documenti vengono visualizzati questo permette di fare della delle comparazioni ora eh questo è comodissimo per esempio per preparare delle lezioni uno può ad esempio eh partire da un diciamo può può resalizzare diciamo le singole cose può averne tantissimi aperti e poi eh tenere in evidenza eh uno solo oppure usare diciamo le funzioni di zoom eccetera per analizzare dei particolari notate che questa cosa che io ho realizzato che ho appena fatto è stata fatta su qualcosa che non fa diciamo non c'entra assolutamente nulla con con eh il portale Emilib queste due risorse provengono infatti andiamo a vedere eh questo qui viene dal dal Getty Museum e l'altra probabilmente anche no questo viene dalla Welcome Library quindi vedete queste state già assaggiando il nocciolo della questione Tripol AF quando lavorate con Tripol AF tutti i servizi relativi agli oggetti possono essere realizzati indipendentemente da chi eh distribuisce gli oggetti e dove vengono dove vengono eh distribuiti un'altra funzione diciamo con questa poi diciamo entriamo un po' più nel 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 noccio della 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 questione che stiamo facendo è la funzione il servizio relativo alle storie ecco questo è una questo si si c'è una sezione dedicata a questo che cosa sono le storie le storie sono sequenze di immagini e di annotazioni che ogni singolo utente può costruire qui ne avevo avevo costruito un esempio ecco una una storia a questo look è un micro sito web attenzione questa è una funzionalità disponibile per tutti per tutti gli utenti questa è una cosa da focalizzare non è una una funzionalità disponibile solo per i bibliotecari i bibliotecari naturalmente la utilizzeranno per creare delle presentazioni autoriali che utilizzeranno per presentare la collezione sui loro portali ma qualunque utente Mlol può fare la stessa cosa perché un insegnante vuole fare una lezione perché un curioso perché uno studioso diciamo dei documenti che sono che sono nella collezione per qualunque ragione che interessa che cos'è dicevo una storia una sequenza qui avevo fatto è un micro gioco che avevo fatto gioco è una parola grossa avevo preso il frontespizio della scienza nuova vedete quello che posso fare è creare una una sorta di percorso all'interno dell'immagine e qui sulla destra trovate le mie annotazioni in cui spiego che la donna con le tempi erate in questo frontespizio di Giambattista diciamo del libro di Giambattista Vico rappresenta la metafisica il triangolo con l'occhio naturalmente Dio globo su cui poggia la metafisica il mondo il mondo della natura eccetera eccetera ma al di là del contenuto qui il tema è io l'utente il bibliotecario il curioso possono navigare questa collezione sterminata di oggetti che provengono dall'istituzione di tutto il mondo e creare delle sequenze narrative per le finalità più diverse un esempio più divertente migliore di questo che fa sempre Andrea Andrea però ci parlerà di altri oggi è quello delle mappe geografiche ecco c'è una collezione incredibile di mappe geografiche storiche e questo ci permette permette diciamo di 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 permetterebbe di fare delle analisi estremamente divertenti di documenti per esempio dovreste vedere adesso siamo nella Estense Digital Library un'altra realizzazione fatta con la piattaforma Mlol vi faccio vedere una carta che è carta del cantino una carta una mappa gigantesca che è stata realizzata tra l'altro dai colleghi di alta definizione questa un po' lenta questa è una vediamo se oggi la cassa eccola è un'immagine ad altissima definizione è stata digitalizzata intanto è molto grande le misure sono dovrebbero esserci qui sono due per due per uno e è stata realizzata con un'acquisizione in gigapixel cioè il che vuol dire che quello che voi vedete qui è il risultato dell'interpolazione attraverso dei software di centinaia e centinaia di scatti fotografici indipendenti questa è una mappa degli inizi del Cinquecento e per la prima volta nella storia della cartografia non so della cartografia compaiono compare l'America diciamo qui ci sono i Caraibi e poi diciamo la costa del la costa del del Brasile l'Amazonia eccetera eccetera in modo totalmente totalmente appena accennato qui abbiamo l'Africa ecco immaginate per esempio una diciamo la storia della cartografia diciamo è un su un blog ci sono centinaia di migliaia di foto storiche ha delle interazioni fortissime con tanti altre con tanti altri settori e può essere utilizzato diciamo come complemento per la per l'insegnamento della della storia di tantissime altre altre discipline cos'è? dillo pure l'altra ah ok perfetto quindi ho stop per finire il mio tempo quanto tempo ancora? ah penso ok vabbè grazie Andrea che monitorizza il mio tempo nel progetto che abbiamo realizzato per le stesse e poi faccio quest'ultimo esempio e poi mi mi fermo c'è anche qualcosa che porteremo su un lol a breve che è l'idea di poter annotare il direttamente ogni singolo documento qui non sono logato devo farlo lo faccio rapidamente eccoci qui ovviamente probabilmente che non ricordi la password sì ecco ci sono riuscito incredibilmente bene vedete che dentro dentro il progetto delle stesse ogni singolo documento ha delle funzioni di annotazione io posso entrare all'interno del documento per esempio con questa funzione annota pagina che aprirà un viewer questo viewer mi permette di navigare le diverse pagine della digitalizzazione ecco e con questo strumento posso realizzare delle annotazioni cioè aggiungere testo per esempio una trascrizione aggiungere parole chiave salvare queste annotazioni rimangono salvate sulla vista che il singolo utente avrà di questo documento quindi non sto il singolo utente che commenta non sta sovraimponendo le sue annotazioni al documento che tutto il pubblico vedrà ogni utente ha le sue proprie annotazioni annotazioni che all'interno del sito della biblioteca estense potrà poi gestire vedete che qui abbiamo questa è l'annotazione che ho appena fatto vedete c'è anche il ritaglio della sessione a cui ho associato la mia annotazione l'utente può passare dal viewer alle proprie annotazioni in modo rapido ed eventualmente anche scaricare tutte le annotazioni che realizzate con i relativi link perché questa è un'altra cosa interessante di questo standard questa cosa che io ho fatto cioè selezionare una piccola fare il crop di una sezione di questo documento è un è un oggetto semi standard io posso posso fondamentalmente linkare questo diciamo una sezione di un manoscritto di un'immagine di un libro a stampa e referenziarle in modo in modo standard questo è molto questo è molto interessante quindi per esempio queste annotazioni potrebbero essere utilizzate in un saggio in un saggio posso parlare in un saggio di paleografia posso non mi vengono esempi più pop però sicuramente ce ne saranno in un saggio di paleografia posso diciamo menzionare una certa scrittura un certo carattere che compare una pagina il link permetterà immediatamente di visualizzare quelle righe alle quali mi sto riferendo nel documento ok fermo la condivisione del documento ritorno rapidissimamente alla condivisione del mio della presentazione precedente eccoci quindi riassumendo che cosa trova quali sono gli strumenti AAAF che oggi gli utenti trovano su blog liste possibilità di fare comparazioni annotazioni e gestione delle annotazioni le storie le abbiamo viste non ho parlato dell'OCR in AAAF perché il progetto bellissimo della gazzetta di Parma lo contiene quindi ce ne sicuramente avremo occasione di vederlo in azione nella presentazione di Michele Corsello e infine il lavoro di costruzione di questo grande data settimana grande collezione di oggetti tra i PAN-AF che stiamo realizzando ci fermiamo qui neanche per sogno come vi dicevo l'idea è quella di inserire questa roba nel ciclo continuo di sviluppo Mlol che cosa quali sono le prossime cose che abbiamo in mente di fare beh alcune sono abbastanza intuitive l'idea la possibilità di pubblicare un manifest personalizzato manifest è un termine tecnico del AAAF nel quale non entro ma fondamentalmente l'idea è la possibilità per l'utente di pubblicare una copia annotata di un documento ok quindi io do costruisco le mie annotazioni e poi posso dare ai miei studenti il viewer con in cui gli utenti gli studenti troveranno potranno leggere e diciamo sfogliare il documento assieme alle mie annotazioni la possibilità di fare ricerca nelle annotazioni nelle tag degli utenti una serie di funzioni social aggiuntive e infine l'aggiunta di elementi multimediali che è una delle possibilità offerte dallo standard AAAF bisognerà capire quanto questa funzionalità possa diciamo l'inserimento di video e audio possa interessare le istituzioni che partecipano ok io fermo qui la mia la mia presentazione e passo la parola a Stefano Pagliantini che è direttore della biblioteca civica di Bassano del Grappa e che ha diciamo che ci racconterà di questo del progetto di digitalizzazione del fondo del fondo Canova grazie grazie Giulio Blasi grazie per questa opportunità di intervenire in un contesto così prestigioso come il convegno Stelline inizio subito con una serie di ringraziamenti a parte quelli doverosi a Giulio Blasi vorrei ringraziare tutti i soggetti che hanno preso parte al progetto di creazione dell'archivio digitale Antonio Canova della biblioteca civica di Bassano del Grappa tutti i soggetti che a vaglio titolo hanno contribuito alle variazioni del progetto Mida Informatica che ha curato le digitalizzazioni un lavoro molto grosso oltre 24.000 scatti ad alta definizione il lavoro è stato coordinato da Desi Kogo e Davide Pistore Iperborea che ha curato la metadattazione e ringrazio Anna Fuggi per l'attenzione e la cura in questo lavoro naturalmente Media Library per l'opportunità della piattaforma che ha messo a disposizione la quale che vedremo fra poco e nella quale sono caricate tutte le immagini e i metadatti e ringrazio per la disponibilità davvero Andrea Zanni e infine un ringraziamento va a due volontari del servizio civile che lavorano qui in biblioteca che hanno fatto un grosso lavoro in questi ultimi mesi per la cura il controllo dei testi e per la cura grafica del sito che poi vi faremo vedere infine siamo molto felici che il progetto abbia potuto ottenere il patrocinio del Ministero della Cultura e della Regione Veneto che entrambi hanno riconosciuto il valore di questo progetto e la rilevanza insomma di quello che abbiamo creato e del patrimonio insomma che attraverso questo progetto sarà sicuramente valorizzato direi di condividere subito lo schermo e farvi vedere di cosa stiamo parlando di cosa stiamo parlando stiamo parlando il protagonista di questa storia è Antonio Canova l'avrete capito e che cosa c'entra con Bassano del Grappa c'entra perché pur essendo originario di un paese poco lontano da Bassano Possagno in provincia di Treviso in realtà a Bassano abbiamo avuto la fortuna di avere una grossa donazione alla metà dell'Ottocento da parte del fratellastro di Antonio Canova figlio di seconde nozze della madre di Canova il quale decise dopo la morte di Canova nel 1822 di donare e di portare a Possagno dove è stata creata quella sorta di sacralio dell'arte canoviana che è la gipsoteca di portare a Possagno quindi gli oggetti di maggiore dimensione i bozzetti i modelli i calchi di maggior parte delle opere di Antonio Canova ma di destinare al Museo Civico di Bassano la collezione di materiali più fragili e delicati che erano appunto i disegni l'epistolario gli scritti di Canova e i libri che facevano parte della sua biblioteca personale di questo immenso patrimonio era più importante e ampia raccolta di manoscritti e di documenti canoviani abbiamo la fortuna di essere i custodi noi Biblioteca Civica insieme al Museo della città di Bassano di Grappa Canova nell'arco della sua vita come potete ben immaginare collezionò una serie di corrispondenze importanti e lui stesso scrisse moltissimo a tutta una serie di personalità alle più svariate del tempo non solo gli affetti familiari ma sto parlando di relazioni legate alla sua attività professionali intellettuali artisti tutto l'entourage politico e della nobilità italiana europea quindi insomma un enorme un enorme mola di mola di documenti attraverso la quale gli studiosi hanno potuto e potranno ricostruire la rete di relazioni e tutto un mondo insomma che ruotava attorno al grande artista veneto dal punto di vista numerico il fondo è costituito da 6.685 documenti quasi 600 lettere autografe più di 4.000 lettere indirizzate allo scultore e poi un nucleo di scritti autobiografici molto particolari molto interessanti di pugno di Canova dove si raccontano storie vicende e non solo lavorativi non solo legate al suo percorso artistico di fondamentale importanza tutto questo fondo dal 1983 è oggetto di studio e di curatela da parte del comitato per l'edizione nazionale degli iscritti di Canova un comitato istituito dal presidente della repubblica del 1983 e che ha sede qui da noi e che si occupa appunto della pubblicazione e della cura di tutto questo imponente epistolario sono stati pubblicati alcuni volumi e quello che invece abbiamo voluto fare noi è rendere pubblico rendere visibile fruibile attraverso la digitalizzazione l'intero l'intero fondo nella sua interezza questo un po' come ha accennato anche Giulio Blasi nella sua presentazione è una grandissima opportunità di valorizzazione di un patrimonio dal nostro punto di vista anche di custodi di questo patrimonio vuol dire anche la preservazione del tempo perché è chiaro che in questa maniera il patrimonio potrà essere oggetto di minore manipolazione potrà essere sicuramente valorizzato al meglio ma potrà anche creare delle occasioni non solo per gli studiosi ma anche per il pubblico curioso di creare interrelazioni tra documenti creare percorsi di attraversamento dell'intero epistolario dell'intero fondo documentale a seconda degli interessi e delle ricerche che ciascuno vorrà fare il fondo è articolato in una serie di sezioni che trovate che si possono appunto vedere ben descritte scusate una limitazione nostra questa nella sezione delle info viene descritto il fondo così come si è creato storicamente e quello che è interessante è l'articolazione di questo fondo che noi abbiamo preso così come Sorbelli nell'inventario dei manoscritti delle biblioteche d'Italia nel 1934 ha descritto e ha ripartito ha raggruppato per in undici in undici grandi aree tematiche potremmo così definirle l'intero fondo vi faccio vedere per esempio la prima sezione è quella dedicata alle commissioni e qui sono raggruppati documenti legati a commissioni particolari e fotografano un po' sono documenti che fotografano la nascita dei principali capolavori scultori dell'artista trovate le tre grazie trovate psiche ercole liche e molti altri insomma cliccando su questi documenti potete trovare su questo link potete trovare i documenti corrispondenti a questa sezione altre sezioni particolarmente interessanti sono quelle la sezione nona che contiene tutti quei manoscritti autobiografici quei quaderni di appunti quei giornali di viaggio quelle descrizioni dei viaggi che Canova fece nel corso della sua vita fondamentali per lo studio della personalità artistica e umana anche dell'artista sono come vedete 6.685 documenti che si possono ripercorrere molto facilmente le scansioni ad alta definizione le immagini ad alta definizione come avete visto prima possono essere visualizzate in maniera ottimale poi vedremo alcuni esempi sono state appunto scansionate con uno scanner promettaglio che ne ha consentito di riprodurre anche la materialità dell'oggetto che è molto interessante la carta su cui Canova scriveva oppure non so nel caso dei diplomi degli attestati di merito i sigilli e altri elementi che consentono proprio di quasi toccare con mano la materialità di questi oggetti torno all'home se il collegamento non ci tradisce intanto vi dico qualcosa su come abbiamo cercato di raccontare questo patrimonio perché l'attenzione che abbiamo posto è lo spirito che informa questa piattaforma alcune cose le ha dette Blasi prima è chiaro che questo lavoro ha come destinatari primi un pubblico di un'utenza specializzata un'utenza accademica di studiosi eccetera ma la piattaforma è chiaro che si rivolge a un pubblico anche molto eterogeneo abbiamo parlato di un milione e cinquecentomila utenti di Mlol e quindi a loro pensando a loro abbiamo cercato di creare delle storie creare dei percorsi di attraversamento del fondo anche con delle caratteristiche dei toni quasi da affabulazione in modo che fosse possibile creare curiosità nei tempi ci sono dei problemi tecnici mi sentite mi sentite sì 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 ah scusate no perché qui la connessione internet nostra ha qualche problema eccoci qua vediamo se riesco ecco proseguire allora vi dicevo che abbiamo cercato di raccontare questo fondo creando nella parte bassa del sito scorrendolo delle sezioni che permettessero di attraversare il fondo e raccontarlo in maniera magari più più curiosa prendendo alcuni documenti del fondo stesso o creando degli insiemi dei raggruppamenti di documenti abbiamo pensato che fosse interessante vedere questi questi documenti e leggerli con un occhio diverso vi faccio vedere per esempio un documento molto particolare che è questo gli esercizi il libretto di esercizi lingua inglese di Canova che è un documento molto originale nel quale Canova annotava i suoi esercizi di lingua inglese nel momento in cui stava cercando di apprendere la lingua inglese necessaria per gli scambi poi con artisti e committenza d'oltremanica in questo in questo documento vediamo vi faccio vedere una di queste pagine vedete intanto il grado di definizione la possibilità agevolmente di ingrandire di visualizzare il documento o addirittura per l'intero documento vederne la carellata delle immagini e poi puntare l'attenzione su uno di questi quello che vi stavo facendo vedere è curioso vedere insomma gli esercizi che Canova faceva per apprendere la lingua inglese anche su questi documenti tutti in triplo IF è possibile fare annotazioni creare dei percorsi un po' come si diceva si diceva prima vedete che ogni documento ha una metadattazione essenziale il titolo attribuito al documento in questo caso l'autore è manoscritto di Antonio Canova la data 1792 e sotto l'immagine l'incipit del documento nelle lettere è ancora più significativo questo elemento la segnatura la collezione di cui fa parte secondo la ripartizione di cui si parlava prima fatta da Sorbelli e la datazione precisa del documento stesso vediamo se riesco a tornare in home ecco qui un altro raggruppamento che abbiamo voluto fare sono i quaderni di viaggio anche questi molto interessanti il primo per esempio racconta il primo viaggio che Canova fece a Roma prima di stabilirsi nel 1779 ed è un documento anche questo molto interessante di cui vi faccio vedere la successione delle immagini ecco qui qui ci sono presenti anche come in altri documenti degli appunti degli schizzi dei disegni che Canova usò fare nelle sue lettere nei suoi diari dove appuntava delle idee o riproduceva come in questo caso dei vasi di foggia antica che aveva visto nel suo percorso lungo il viaggio fermandosi a Ferrara come è scritto in questo documento aveva riprodotto questi questi vasi anche qui vedete la possibilità la definizione davvero alta con cui si possono vedere immagini addirittura se guardate la foto del del libricino si 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 la definizione è davvero molto buona si si nota appunto la pergamena con cui ha rivestito insomma il risultato credo che sia di di gran di gran livello prima si parlava della possibilità di fare delle storie noi ci abbiamo provato ne faremo sicuramente delle altre abbiamo pensato di attraversare i documenti che compongono questo questo fondo cercando tutte quelle pagine dove fossero appuntate degli scritti o dei disegni ecco qui abbiamo fatto un percorso una storia con gli schizzi e i disegni di Antonio Canova di mano sua eccoli qui vedete l'impostazione quella che abbiamo visto prima e qui abbiamo in successione la possibilità di vedere i disegni che compaiono nei diversi documenti descritti sulla parte destra dello schermo vi faccio vedere una cosa molto curiosa ecco questo è il libretto di esercizi di lingua inglese di cui abbiamo parlato prima nell'ultima pagina però tenendo capovolto il quaderno Canova siamo in anni ancora lontani dalla realizzazione del monumento funerario a Maria Cristina d'Austria realizzato per la chiesa degli agustiniani di Vienna in questo libricino di esercizi di lingua inglese Canova disegna quella che sarà l'idea del monumento funerario a Maria Cristina d'Austria quindi è una cosa molto curiosa che abbiamo voluto raccogliere in questa storia poi abbiamo creato un'altra storia che è quella degli schizzi e disegni dei corrispondenti 4080 lettere di corrispondenti a Canova in molte di queste ci sono degli appunti dei disegni degli schizzi che abbiamo voluto far vedere attraverso questa questa soluzione tecnica quella delle storie e che sicuramente amplieremo creando degli altri percorsi attraverso cui raccontare l'intero fondo canoviano queste sono le cose fondamentalmente che volevo direvi e poi eventualmente se ci saranno delle domande sono qui a disposizione il sito è online siamo davvero orgogliosi di questo progetto di essere arrivati a termine di questo progetto grazie grazie mille Stefano questo è davvero diciamo come dire entusiasmante il livello di esplorazione diciamo nei documenti di Canova che è reso possibile da 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 questo progetto materiale davvero straordinario interessantissimo do subito la parola a Michele Corsello delle biblioteche civiche di Parma che ha realizzato un progetto diverso dove credo emerga in modo molto chiaro quali sono le potenzialità del Tripoli F nella gestione di emeroteche digitali storiche Michele a te la parola buongiorno buongiorno allora inizio anch'io a condividere lo schermo così vediamo subito il nostro sito allora qua siamo sull'home page del sito che è l'archivio storico della Gazzetta di Parma di cui abbiamo inizialmente pubblicato il periodo che va dal 1920 al 1947 e quindi sono più di 40.000 documenti e più e quasi 10.000 fascicoli cioè numeri di giornale usciti naturalmente questo progetto ha delle particolarità perché il tipo di materiale la tipologia di materiale particolare e soprattutto perché noi qui anzi voi avete eseguito l'OCR sulle immagini quindi c'è stata una prima fase di ripresa e voglio ricordare la ditta che l'ha realizzato che è Mother World Memories e poi la collaborazione di Mlol e di Iperborea che hanno realizzato il back end e il front end di questo di questo sito che vediamo adesso insomma quindi qua sia sull'home page dopo vedremo l'home page intanto diciamo che si presta a essere configurata con una certa varietà qua abbiamo per esempio portato in home page un video del direttore della gazzetta Rinaldi che parla di questo periodo storico cioè dal 20 al 47 nella storia della gazzetta e poi abbiamo portato sul un menu laterale in cui ci sono tutti contenuti significativi più cominciamo a elencare dei percorsi i percorsi naturalmente sono anche qua sulla home page con accesso da un'immagine i percorsi sono le famose storie poi vediamo come abbiamo lavorato sulle storie diciamo se io adesso entro sul catalogo naturalmente questo sito ha la possibilità di autenticarsi in maniera automatica quindi basta basta cliccare sulla voce non sei ancora registrato io adesso sono già logato diciamo non sei ancora registrato si presenta una maschera si compila e si riceve l'account nella propria email diciamo il sito è consultabilissimo anche senza l'autenticazione però l'autenticazione svolge il ruolo poi di poter accedere a queste a queste funzioni peculiari dei Tripoli F come per esempio il salvataggio di liste il salvataggio la pubblicazione di storie e anche il confronto fra documenti qui oltre al lavoro su OCR che adesso vediamo con qualche esempio e devo dire che io ho provato a confrontare alcune libri che a Parma sono storici cioè di bibliografie in cui sono state manualmente sui documenti originali estratti ad esempio gli articoli di Zavattini o di altri personaggi intellettuali permessi i risultati sono migliori quelli che ottengo attraverso l'OCR cioè trovo più roba rispetto a queste liste pubblicate qualche anno fa e estratte manualmente dai giornali sono in grado sarei in grado di completarle naturalmente quello che è scritto su un libro è fisso a meno che non se ne faccia una riedizione mentre le bibliografie le liste le storie che comporremmo qua noi vorremmo proporle come un punto di partenza di condivisione alla comunità degli studiosi dei lettori degli utenti di questo sito perché possono anche loro esplorando il portale contribuire a segnalare articoli che non avevamo trovato e quindi a portarli dentro queste storie per creare delle liste e delle bibliografie e dei percorsi esaustivi allora qui c'è stato anche un lavoro di personalizzazione più profonda rispetto forse al portale che abbiamo visto prima perché abbiamo sia il problema di cercare sul testo perché il testo è ricercabile sia il problema di una tipologia di giornale che tutto sommato prevede una forte semplificazione in ricerca quindi abbiamo un comando molto semplice nella prima casella io posso introdurre ad esempio Alfredo Zerbini che è un poeta dialettale di Parma e lanciare la ricerca lui cerca sul testo cioè cerca dentro le pagine dei giornali ha estratto 29 risultati per ogni occorrenza vedete che c'è un piccolo estratto accanto a questa prospettazione in cui io posso già attivare un piccolo preview perché se cerco articoli di Alfredo Zerbini qua ho già una conferma che che qui lui è estratto correttamente un articolo diciamo di Alfredo Zerbini in questo caso no lo capisco già dall'estratto che siamo invece Alfredo Zerbini è nominato all'interno vedete qua all'interno di una lista di nomi quindi posso lanciare la mia ricerca semplicemente dalla dalla casella principale di ricerca e poi attivare magari in fase successiva dei link che mi interessano solo gli articoli del 27 clicco su 27 ce li ho differentemente per esempio posso filtrare direttamente in ricerca avanzata quindi Alfredo Zerbini posso fare un altro esempio Zavattini ha scritto sulla gazzetta solo negli anni 1926 scusate negli anni 26 quindi io scrivo 01 01 1926 fino al 30 giugno del 1928 perché poi la gazzetta viene in quel giorno dal primo luglio viene assorbito dall'organo della federazione provinciale del fascista e quindi Zavattini se ne va quel giorno se ne va non scriverà più per gazzetta quindi io e so che lui siccome qua ci sono cambiamenti in corso di nome da infatti dal primo luglio del 28 la gazzetta si chiamerà Corriere Emiliano posso anche filtrare sul titolo del periodico in questo Zavattini quindi se io ho già delle indicazioni che prendo dai libri dai studi precedenti posso già impostare la mia ricerca in questo modo Zavattini ha scritto tantissimo devo dire ha scritto tantissimo ma non firmava quasi mai come Cesare Zavattini pochissime le cose sono firmate come Cesare Zavattini in realtà lui firmava come ZA o come l'impresario Zavattini o come Zavattini e basta quindi quindi ecco ecco questa prospettazione della ecco come uso la ricerca avanzata immettendo direttamente i filtri per dato o i filtri per testata adesso torno un attimo alla ricerca che avevamo impostato prima che è su Alfredo Zerbini qua possiamo anche mettere possiamo lasciare questa data ma portarci fino alla fine di questa collezione che arriva al 31-12 del 47 è dal 1920 al 47 non impostiamo il giornale il nome della testata lanciamo la ricerca abbiamo 25 occorrenze allora il fatto che sia una firma di soldi che sia una firma lui il sistema non è in grado di lavorare direttamente sulle firme no? sugli autori però in genere lo si vede perché Alfredo Zerbini compare in questo modo cioè ecco questa per esempio è sicuramente una firma di un articolo perché compare isolate non all'interno di un testo una volta che io ho individuato il testo che mi interessa ad esempio questo aprendo i risultati nel viewer cioè le occorrenze vedrò le occorrenze delle parole ricercate apro Mirador che è il viewer di IIIF e vedete che lui mi indica sia la ricorrenza l'occorrenza di Alfredo che di Zerbini e scorrendo la pagina lo noto immediatamente perché sono evidenziate nei colori blu e giallo a seconda che io clicchi sulla parola o sull'altra ok volendo una volta che se so di un numero particolarmente interessante non ho ottenuto risultati posso ripetere la mia ricerca dentro al documento io sono dentro questo documento magari so che dentro questo documento ci dovrebbe essere qualcosa di Zerbini posso provare a vedere se lui ha firmato AZ per Bertolucci ad esempio spesso Bertolucci firma come AB e effettivamente è una ricerca più laboriosa perché fa molto rumore ma individuando i periodi più ristretti si riescono a estrarre anche occorrenze pertinenti sia col nome sia col cognome nome e cognome cognome solo prenome puntato e cognome oppure entrambe le iniziali puntate allora abbiamo detto questo documento per noi è molto interessante dopo vi dirò perché quindi lo possiamo aprire nel viewer per vedere esattamente dove è l'occorrenza come abbiamo fatto prima e vediamo che l'occorrenza sta su pagina 2 vedete che qua me lo dice adesso io sono leggermente coperto qua sulla destra ho lo scorrimento delle pagine siamo è appena finita la guerra anzi la guerra viene dichiarata finita in Italia questo giorno e quindi il giornale è ridotto un po' ai minimi quindi se le occorrenze fossero molte comunque lui mi indica qui in quale pagina c'è l'occorrenza io cliccando vengo rimandato direttamente alla pagina pertinente intanto volevo far notare la straordinaria amichevolezza della consultazione via Mirador perché Mirador ha questa sostanzialmente ha questa caratteristica che intanto si generalmente noi siamo di fronte ad immagini con definizione molto alta in grado di riprodurre anche caratteristiche materiche cioè ci sembra veramente di avere in mano il foglio del giornale così com'è però Mirador fa questa cosa che elimina comandi intermedi cioè non c'è un tasto più o meno zoom oppure barre laterali eccetera eccetera per cui io col solo mouse ho il dominio completo di questa pagina che vedete che si carica per strati ho il dominio completo di questa pagina e quindi sostanzialmente è come se il mouse fosse prolungamento della mia mano io toccassi il documento detto questo ritorniamo un attimo sui risultati della mia ricerca che sono qua a questo punto io posso fare due cose cioè posso salvare questo documento che ho trovato qua la data del 3 maggio che è un articolo di Zerbini molto importante insomma per la storia di Parma perché è l'articolo in cui lui fa una cronaca del qui in pagina 2 fa una cronaca della liberazione nell'oltre torrente eroico così definito da lui quindi io posso posso cliccare qua non più nel viewer ma qua sul sul link al fascicolo diciamo al manifesto completo e a questo punto ho il mio comando che mi dice aggiungi a una lista qua io la lista ce l'ho già l'ho già preparata quindi non lo aggiungo la mia lista fatta con gli articoli interessanti di Zerbini che trovo è dentro al mio spazio le mie liste ed è questa in cui sono quattro gli articoli fondamenti gli articoli o c'è anche una poesia che sono interessanti di quest'autore l'altra cosa che invece io posso fare è decidere con questi quattro documenti che ho trovato di costruire una storia se io vado sulla home page questa storia io l'ho già costruita ve la faccio vedere un attimo perché qui ha una particolarità Alfredo Zerbini che ripeto un poeta dialettale fondamentalmente di Parma è l'oltre torrente la storia comincia così con una breve presentazione poi apre direttamente questo articolo che è del 3 maggio e fa una cronaca della liberazione del 25 aprile andando avanti ecco andando avanti io trovo due fotografie più avanti trovo anche altri due articoli che lui aveva scritto quasi quasi vent'anni prima insomma nel 27 sempre su Gazzetta di Parma che sono articoli dedicati sempre all'oltre torrente gli usi costumi e li vedete qua in due puntate questi sono gli articoli ma quello che ho voluto provare in questa storia è di collegarmi a un aggregatore di risorse triple IF e in questo caso l'aggregatore è l'aggregatore di OCLC per vedere se trovavo del materiale che secondo me era pertinente per confezionare la mia storia quindi esistono nel mondo e uno è sicuramente le risorse open di Mloll ce ne sono altri ma comunque anche questo di OCLC è interessante vedete che lo apro un attimo questo è l'aggregatore anzi sono risorse di OCLC io qua semplicemente non ho fatto neanche un filtro per data perché quasi subito dopo che ho lanciato la ricerca su Parma ottengo due fotografie che sono questa e questa che sono due fotografie che sono proprio di quei giorni in cui Zerbini scrive questo articolo ecco questa è una fotografia sempre nello standard se mi interessa io apro le informazioni su questa fotografia in fondo ho il link al manifest copio il manifest e diventa un documento come un altro che io incollo dentro la mia storia se volete adesso posso farvi vedere un attimo come come si costruisce questa storia un altro esempio che io ho fatto è un attimo solo un altro esempio è questo questa è sempre una storia un percorso che riguarda una grandissima mostra dedicata al corregio che si svolta a Parma nel 35 nel quarto centenario della morte e anche in questo caso si comincia con tutti gli articoli della gazzetta che presentano la mostra e andando avanti troveremo degli articoli di Quinta Valle dell'annuncio dell'arrivo delle opere da tutto il mondo e a un certo punto quando arrivo su questo manifesto vedete qua ho le opere del maestro esposte scorrendo queste opere io trovo lo spostalizzo di Santa Caterina della raccolta Cress questo io l'ho trovato con l'aggregatore di Mlol ho messo semplicemente spuntato sulle risorse Triple IF ho messo Correggio come autore e ho ottenuto il link al manifesto che mi serve per costruire la storia che vediamo di seguito quindi proseguiamo nella storia e abbiamo questo spostalizzo mistico della raccolta Cress con anche il link alla fonte diciamo il quadro era in mostra a Parma nel 45 qua segue un particolare poi seguono altre informazioni di quegli anni quindi le considerazioni che io ho fatto adesso se ho ancora due minuti provo a farvi vedere come inserisco due o tre manifesto per la costruzione di una storia le considerazioni che ho fatto intanto c'è questa usabilità straordinaria che in genere non si trova in un altro viewer perché ripeto è in gioco solo il mouse e senza scatti con una con una una capacità di zoomare in maniera continua e dettagliatissima e di spostare comunque le immagini facendola scivolare diciamo questa grande usabilità è orientata al fare perché una volta che ho trovato documenti pertinenti mi verrà voglia di annotarli mi verrà voglia di confrontarli e soprattutto mi verrà voglia di salvarli in una lista oppure di costruire una storia e quindi la ricerca diciamo che il grosso impulso che dà il treppolo F è di non fermarti alla ricerca ma condividi i tuoi risultati cioè annotali facci quello che vuoi è come avere una vera e propria scrivania con i documenti che io poi dopo confronto annoto eccetera salvo i risultati e immediatamente mi viene voglia di condividerli abbiamo visto anche che ci troviamo in un ecosistema di contenuti digitali culturali e un ecosistema sia nel senso che qua e all'interno di una comunità che noi stiamo lanciando su Parma un invito a tutti gli utenti ai lettori e agli studiosi per condividere con noi le storie che loro costruiscono in modo che la molteplicità dei percorsi che si possono costruire che sono tantissimi possa essere a disposizione di tutti è un ottimo strumento anche secondo me per le scuole che con questo strumento possono costruire delle ricerche arrivando a questo slide show che effettivamente è di grande efficacia e quindi questa dimensione partecipativa e comunitaria diciamo che è immediata dentro tra EpoLIF cioè la dimensione di partecipare alla non alla costruzione esattamente del repository ma alla costruzione di tutti i sentieri che si possono percorrere dentro questo repository poi siamo in una dimensione sistemica molto più ampia io vi ho fatto vedere come gli aggregatori sono ancora parziali ma se io immagino tutti gli articoli di Zavattini che sono sulla gazzetta e immagino che chi detiene l'archivio di Zavattini pubblichi in AAAF le storie che io potrò comporre qua ma utilizzando immagini che vengono da altri server a AAAF diventeranno veramente interessanti così per Zavattini per Guareschi per qualunque cosa diciamo questa cosa delle storie dei confronti faccio un'ultima considerazione mi permette di lavorare sulla costruzione di connessioni che sono connessioni per somiglianza cioè nel senso che io in genere cerco penso a un percorso in cui c'è qualcosa che unisce l'immagine alla successiva immagine ma sono anche connessioni per differenza quindi somiglianza e differenza perché l'altra funzione importante è quella di accoppiare due immagini due scritti in cui c'è una variante eccetera eccetera e lì di cogliere la differenza direi che la costruzione della conoscenza e dell'intelligenza è basata su questi due fattori cioè cogliere le differenze e cogliere le somiglianze infine c'è un supporto fortissimo alla curiosità proprio perché io sembra quasi di fare un gioco no perché questa dimensione immersiva così potente nel documento la possibilità di annotarlo di pubblicarlo di connetterlo a altri documenti dell'archivio della gazzetta ma di connetterlo a documenti che trovo in giro per il mondo come era quel quadro della collezione Keller che sta sul sito della fondazione Keller ma comunque abbiamo trovato nell'aggregatore e quindi questa dimensione del gioco poi è enfatizzata in un giornale come la gazzetta di Parma o della curiosità perché qui in effetti io immagino che una buona percentuale di ricerche avverranno nella ricerca di fatti che hanno una connessione personale vissuta con chi li cerca io stesso devo dire che ho fatto alcune ricerche su mio nonno e ho trovato la notizia del giorno in cui si è sposato la notizia del giorno in cui è nato mio padre insomma e quindi diciamo tutto sommato se devo concludere mi pare che noi siamo molto soddisfatti per perché ci troviamo di fronte ripeto a un OCR che ha una buonissima precisione ha una grande capacità di recupero abbiamo approntato un sistema di ricerca che è auto intuitivo e molto semplice non c'è quasi bisogno di spiegarlo come si deve fare e abbiamo una volta effettuata la ricerca e recuperato i documenti che ci interessano questa apertura immediata su su le comunità e su e sulle comunità anche fatte dagli studiosi e dai lettori della nostra città ma in genere di chi vorrà partecipare a fare a chi vorrà contribuire a produrre sempre più percorsi che in questo caso sono poi interessantissimi noi abbiamo scelto questo periodo che va dal 20 al 47 noi vediamo che anche dal punto di vista della storia del giornale perché nel 1926 quando Zavattini inizia la collaborazione con Gazzetta improvvisamente Gazzetta diventa un giornale modernissimo perché prima era ingessato era senza firme non si capì senza immagine eccetera eccetera e da quel momento diventa un crogiolo di voci e di vignette di ironie di dissecrazioni che continuerà perché poi Zavattini sta pochissimo ma lascia i suoi eredi che sono Bertolucci Pietrino Bianchi e poi soprattutto Giovanino Guareschi che continuerà direi nella storia della Gazzetta anche nel dopoguerra con altre pagine culturali di grandissimo rilievo quindi è stato io adesso chiedo se ho due minuti posso prendere due manifest e costruire una storia se no puoi puoi posso farlo quindi due minuti al massimo vedete allora io sono qui rifacciamo questa storia con questi tre articoli di Alfredo Zerbini li cerchiamo li estraiamo li mettiamo in ordine per data ma attenzione che anche il filtro popolarità per esempio mi è servito molto per cercare le occorrenze sulle celebrazioni correggesche del 34 e del 35 perché in questo caso i primi documenti che mette in mostra hanno talmente tante occorrenze con la parola corregio che erano quasi tutti pertinenti diciamo qua li ordiniamo invece per data e abbiamo una prima ecco possiamo mettere questo del 2 dicembre quindi io controllo prima nel viewer che sia interessante per me ecco questo dove c'è una firma di Alfredo Zerbini non si vede bene controllo prima che sia interessante riguarda l'oltre torrente l'oltre torrente poi è un quartiere delicatissimo per Parma per questo che Zerbini a fine guerra vuole dedicare la liberazione all'oltre torrente io qua sono sul manifest che voglio inquadrare quindi lo vado a prendere l'indirizzo del manifest lo vado già a nel tasto info lo vado già a copiare mi posiziono dentro il mio account su le mie storie apri un'altra pagina creo una nuova storia prima passo è dare il titolo alla storia quindi facciamo Alfredo Zerbini sarebbe ce n'è già una comunque quindi non facciamo proprio uguale facciamo 1927 1947 posso mettere anche l'autore noi di solito scriviamo redazione e la rendo pubblica salvo la storia adesso comincio a inserire le immagini che voglio che compaiano quindi incollo il link al manifest apro il manifest che era quel numero del 27 siamo a pagina 2 inquadro come voglio che appaia quindi lo posso inquadrare così lo porto dentro vedete lo aggiungo questo manifest con questa particolare inquadratura alla mia storia quindi 24 dicembre 1927 tradizione oltretorrente ok salvo torno adesso sui risultati della mia ricerca vado a prendere mi sposto in avanti temporalmente prendo adesso inseriamo questo articolo storico di Zerbini quello del 3 maggio qua siamo 44 del 3 maggio 45 adesso aprirei naturalmente nel viewer ma non lo faccio apro direttamente la pagina prima avevo copiato il link da qua cioè dalle informazioni legate al manifest in questo caso sopra il manifest visto che non ho aperto il manifest nel nel viewer ma ho aperto la pagina direttamente posso copiarlo da qua torno sulla mia storia che è ancora aperta inserisco il nuovo manifest apro il manifest mi posiziono sull'articolo che mi interessa che è questo lo metto a livello di zoom che gradisco e inserisco questa immagine così oltre torrente eroica 3 maggio 1945 bene ho salvato torno torno adesso un attimo sulle mie storie aggiungo la pagina io adesso ho questa nuova storia la apro e mi copio il link la voglio inserire diciamo in prima pagina mettiamo e quindi questo è il mio gestionale devo procedere no questo non è il mio gestionale scusate un attimo il mio gestionale è finito qua devo procedere sul mio gestionale con la funzione moduli apro i moduli vado sui moduli della home page vedete in realtà questa storia di zerbini c'è già quindi la cancelliamo e la reinseriamo ok quindi aggiungo il modulo non un video si può aggiungere anche un video ma un blocco quindi qua zerbini una descrizione che sarà che adesso non facciamo comunque zerbini vado a pescare un'immagine che abbiamo già quindi è questa un'immagine naturalmente di wikipedia stabiliamo se vogliamo modulo di larghezza 3 cioè tutta la pagina oppure intermedio oppure piccolo facciamo un modulo piccolo e incolliamo sì incolliamo il link alla storia che abbiamo prima creato selezioniamo apri in una nuova scheda inviamo il risultato a questo punto se io vado sulla home page ricaricandola beh sì no a questo punto era meglio se la un attimo e torno qua se la andavo a collocare nel punto giusto sì di solito le abbiamo lasciate sotto all'intervento del direttore in video del direttore della gazzetta Rinaldi quindi adesso andiamo a ricaricare la pagina abbiamo prima il video e poi abbiamo la storia che è quella che abbiamo fatto torno un attimo su questa storia perché vi faccio vedere semplicemente come aggiungo un manifesto esterno e quindi quello che dicevo prima cioè un'immagine coeva di quel momento andiamo a prendere non questa ma quella del palazzo del governatore di Parma queste probabilmente sono immagini di un soldato americano perché le data con precisione estrema sono di un mese dopo vedete sono del 7 giugno apro i metadatti copio l'indirizzo link torno sulla mia storia ce l'ho già aperta quindi inserisco semplicemente il nuovo manifest apro il manifest clicco sull'immagine la inquadro come voglio io aggiungo una nota a questa immagine quindi abbiamo detto che era il 7 giugno del 1945 immagine salvo la storia torno un attimo sulla home page e a questo punto dovrei avere già aprendo la storia questa possibilità di vedere anche una risorsa trappola F che è stata pescata da un aggregatore in giro per il mondo diciamo sono decine di milioni le risorse trappola F ma noi veramente speriamo di arrivare ai disegni di Guareschi ai manoscritti di Zavattini e allora veramente diventerà un sistema di una potenza straordinaria e una comunità straordinaria io avrei finito grazie grazie Michele abbiamo abbiamo un po' sporato diciamo però direi che secondo me è stato molto utile questo questo diciamo questa presentazione che alla fine è diventata anche un po' un tutorial sul modo di usare questi strumenti sia dal lato dell'utente che dal lato anche del dei bibliotecari c'era una domanda di Daniela Teresa Peretto per Stefano Paglientini e vorrei chiedere a Stefano Paglientini se ci fa vedere come si effettua la ricerca nell'ambito dell'archivio Canova ecco non so se volentieri eccoci qua allora prima non mi sono dilungato mi dispiace non volevo rubare tempo a chi veniva dopo di me la modalità di ricerca è piuttosto semplice scusa scusa Stefano ti interrompo mezzo secondo per dire che abbiamo chiaramente sforato i tempi però in realtà diciamo in questi eventi in streaming online eccetera non c'è un problema quindi diciamo andremo avanti ancora diciamo per un po' con la presentazione di Andrea nonostante abbiamo appunto diciamo siamo andati un po' lunghi rispetto ai tempi previsti ma credo che sia interessante fare tutti questi approfondimenti grazie scusa diciamo che ci sono diverse modalità di accesso alla ricerca la ricerca la posso fare qui attraverso questa pagina informativa che abbiamo creato e che vi ho fatto vedere prima l'articolazione del fondo e quindi se faccio delle ricerche specifiche su gruppi scultori o avvenimenti legati alla vita di Canova posso andare qui cliccando sopra mi vedo la relativa immagine oppure ancora vediamo se di nuovo non mi tradisce il collegamento ecco qui la ricerca la posso fare attraverso la ricerca questa maschera di ricerca avanzata che ha dei limiti condivisi anche con Andrea Zanni ma dipendono dal fatto che è una maschera di ricerca che effettua appunto questa operazione su tipologie documentali diverse che possono essere risorse a stampa ma anche risorse manoscritte ma anche risorse a stampa ecco perché la voce editore qui naturalmente posso mettere nel caso nostro del titolo o il titolo del documento per esempio il libricino di lingua inglese o quaderni di appunti eccetera oppure posso indicare se lo conosco l'incipit della lettera per esempio posso fare una ricerca per luogo luogo da cui parte la lettera esempio le lettere partite da Bassano partite da Roma eccetera posso fare una ricerca per data l'arco temporale che io sto cercando o posso cercare questo campo autore che comprende sia il mittente che il destinatario su questo campo credo che ci sarà un lavoro da fare faccio per esempio una ricerca delle lettere di Francesco Hayez a Canova ecco che trovo vari documenti mi faccio vedere questa questa è una lettera i metadati lo dicono di Hayez Francesco mittente a Canova Antonia destinatario del 1814 i metadati sotto mi dicono con precisione la data 26 marzo 1814 e poi con il visualizzatore posso andare a vedere il dettaglio della lettera ecco prima non l'ho detto ci piacerebbe nel tempo implementare chiaramente questa piattaforma pubblicando chiaramente OCR non ci aiuta nel nostro caso è più facile sulla gazzetta di Parma ci piacerebbe poter nel tempo pubblicare caricare anche le trascrizioni delle lettere perché sono disponibili per alcune per parte di queste grazie anche al lavoro fatto dal comitato per l'edizione degli iscritti di Canova e quindi arrivare a poter caricare anche la trascrizione delle lettere come ci piacerebbe poter caricare in accordo con il museo civico anche i disegni che sono conservati al museo ma anche le opere scultori i gessi e quindi altri oggetti digitali che non sono manoscritti che non sono opera stampa ma in questo caso opere d'arte ancora vediamo sulla modalità di ricerca per esempio se io conosco il numero della lettera il numero del documento asterisco indicando il numero della lettera io posso arrivarci attraverso questa modalità ecco che ho il mio documento 6085 credo che siano queste le modalità di ricerca non so se Andrea vuole aiutarmi e dare qualche altro spunto all'utente che ha chiesto questa velocità secondo ok scusate secondo me hai detto tutto nel senso che appunto abbiamo appunto anche l'ultima cosa che dicevi chi conosce il numero della lettera può inserirlo nella ricerca di base oppure se uno conosce l'intera segnatura l'assegnatura completa può cercare in ricerca avanzata nel campo segnatura e poi sì devo dire io vorrei sottolineare come appunto il dottor Pagliantini e tutto il suo staff abbiano lavorato molto con le pagine informative quindi l'articolazione del fondo è una pagina che consiglio agli utenti di usare perché effettivamente si può fare molto cercando di descrivere il proprio progetto cercando di descrivere al meglio la propria collezione loro hanno fatto liste hanno messo l'elenco degli interi gruppi insomma perché ovviamente la scheda offre alcune cose ma insomma è anche una spiegazione una visione unitaria soprattutto per quello che riguarda il materiale archivistico ricordiamo appunto che non stiamo parlando di libri quindi con metadati completi o comunque metadati che aiutano facilmente a identificare un documento ma per il materiale archivistico è tutto più complicato da qui appunto il lavoro che il dottor Pagliantini e il suo staff hanno fatto e anch'io sinceramente non credo ci sia molto altro da aggiungere se non appunto provare a vedere la piattaforma se nel caso insomma ci siano anche dei feedback che noi tutti li accogliamo volentieri colgo l'occasione per come dire se non ci sono altre domande su questo per fare il mio intervento quindi datemi un secondo che provo a condividere lo schermo mi sentite vero sì ci sentiamo ok mi vedete anche perfetto allora un secondo solo ok come fare un progetto MlolDH che è il nome interno che ci siamo dati qui a Mlol per identificare questi progetti quindi progetti appena visti Gazzetta di Parma Archivio Canoviano con Tripoli F è una presentazione come dire operativa nel senso che cercherò di identificare e di raccontarvi quelli che sono stati anche insomma gli insegnamenti che abbiamo ottenuto lavorando come dire direttamente con le collezioni di diversi enti e mettendole appunto online e creando queste biblioteche digitali sono di fatto utilizziamo Mlol per fare una cosa diversa dal solito e sono biblioteche digitali basate su IIIF e questa è una procedura che ho provato ad astrarre se Stefano che Michele vedranno in fretta che come dire è una procedura semplificata perché quella reale è un pochino più complicata ma cercando proprio di astrarre noi possiamo partire appunto da quello che è un nuovo progetto di digitalizzazione quindi un progetto in corso oppure quello che a noi piace chiamare il pregresso quindi digitalizzazioni passate biblioteche digitali passate magari frutto di campagne di digitalizzazione di qualche anno fa che appunto devono rimanere dovrebbero essere trasferite dovrebbero passare a una nuova casa quindi uno magari ha un disc con le immagini a qualche metadato che vuole trasferire in una nuova biblioteca digitale i due progetti sono leggermente diversi ma confluiscono nella prima fase che è la fase di revisione che è di fatto l'analisi dei metadati e l'analisi delle immagini è importantissimo capire appunto di cosa si sta parlando che cosa abbiamo in mano come sono le immagini come sono ordinate che qualità hanno e lo stesso modo come sono messi i metadati queste cose le vedremo meglio nelle slide successive dopo questa fase si divide un po' si dividono il lavoro sui metadati e il lavoro sulle immagini per le immagini si passa a un import attraverso il nostro DAM quindi nel digital asset management per fare il IIIF ovviamente c'è bisogno anche dei metadati per fare un manifest ci vogliono sia i metadati singoli delle singole opere che le immagini noi lo mettiamo tutto insieme e generiamo le immagini di IIIF che andranno a essere pubblicate sulla piattaforma dall'altra parte abbiamo i metadati li mappiamo e scegliamo insieme lo schema con le faccette i filtri la ricerca avanzata e la scheda all'interno della piattaforma e iniziamo quello che è un ciclo di import correzione e normalizzazione vedete che c'è non solo una freccia che porta i metadati al IIIF ma c'è anche una freccia che torna indietro nel senso che questa è una fase ricorsiva come ben sanno appunto Stefano e Michele i dati si rivedono più volte proprio perché e lo dirò diverse volte coerentemente in questa piattaforma in questa presentazione la pubblicazione mostra tutti gli errori nei nostri dati è una cosa che sembra controintuitiva uno dice c'ho dei dati vedo se sono giusti o meno in realtà inserirli dentro una piattaforma e vedere le faccette vedere come funziona la ricerca vedere le schede ci fa proprio vedere quanto e come i nostri dati sono sporchi a volte sono solo qualche duplicato degli spazi in più una incoerenza di maiuscole e minuscole a volte invece gli errori sono più profondi comunque quindi questa fase è più quindi è ricorsiva ci sono vari cicli e poi dopo si va con i metadati a generare le schede che con le immagini fanno le schede dell'opera come abbiamo visto negli interventi precedenti l'architettura è formata fondamentalmente da tre pezzi abbiamo il digital asset manager che è appunto il luogo di storage delle immagini di generazione e il server IIIF per usare un termine tecnico quindi quella macchina che genera e trasforma le immagini in IIIF e le fornisce proprio perché deve esistere un server che fornisce le immagini IIIF se mi passate questo orrendo neologismo e proprio perché IIIF ha bisogno di immagini come dire un gergo calda cioè una generazione di immagini che possono fare determinate cose non sono dei semplici JPEG su un hard disk vanno su un LOL che è la biblioteca digitale le portali che conosciamo e poi repository in realtà di repository è una scelta è una scelta da fare assieme al lente perché c'è una scala uno spettro di scelte che si possono fare in base alle esigenze ma quindi non abbiamo solo un software in realtà ci sono più possibilità lo vedremo meglio a brevissimo questa fase 0 revisione dei dati si chiama l'ho chiamata fase 0 per diversi motivi intanto avevo numerato dall'uno dell'altra roba non volevo rinominare le slide ma gli altri motivi sono più teorici il primo 0 è come dire il vero numero da cui si parte in informatica ma secondo revisione dei metadati è anch'essa una fase che non ha che parte già in fase di preventivo quasi nel senso parte già quando si discute con un ente di un possibile progetto già da subito bisogna iniziare ad analizzare i dati quindi si chiede per esempio quante immagini sono quante opere sono quanto pesano le immagini e come sono messi i metadati ma non solo si chiede ma appena queste immagini vengono fornite si devono rianalizzare nel senso che è molto 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 importante che guardiamo insieme quindi noi come team ma assieme all'ente guardiamo nei dettagli la collezione di dati intesi sia come immagini che come metadati devono essere guardati insieme devono essere guardati nei dettagli perché nei dettagli c'è come dire ci sta il diavolo e la la vera difficoltà di capire se è tutto perfetto si può qua non dico tranquillamente ma si può in maniera semplice fare il processo di import correzione i dati e i metadati oppure se bisogna invece fare un processing di entrambe le cose cosa vengono analizzati in maniera generale il formato dello schema dei metadati la qualità e l'ordinamento delle immagini e il collegamento fra immagini e metadati cioè come sono collegati queste due entità partiamo da una cosa semplice la configurazione del portale come penso questa la faccio veloce perché è già stata illustrata nelle presentazioni precedenti ma chiunque di voi conosca Mlol sa già di cosa parlo cioè gli elementi che si possono personalizzare in Mlol testata sfondo testo della home e footer e pre-footer quindi molto semplicemente qua vediamo le due testate del progetto Canova una è la testata della home page e come potete notare la pagina interna è una testata diversa in cui comunque la testata è più stretta ma abbiamo inserito anche un'immagine di sfondo e quindi c'è questa possibilità di cambiare di avere due testate diverse all'interno dello stesso progetto lo sfondo della home come avete visto tante volte esistono possiamo mettere delle più immagini come immagine principale nella home page tutte le volte che uno torna sul sito l'immagine verrà aggiornata quindi se uno ne mette 5 10 tutte le volte cambia oppure può rimanere una singola se questa è la scelta e un terzo elemento è di fianco al login la possibilità di inserire un motto una piccola descrizione del progetto un altro due elementi che sono in più se non erro rispetto ai portali Mlol classici sono la possibilità di inserire un pre-footer quindi con dei loghi come in questo caso di parma o anche nel footer è possibile inserire un logo e cambiare i contatti inserire i propri social eccetera quindi pre-footer e footer sono altri due elementi personalizzabili ovviamente c'è la gestione autonoma di banner e moduli sono già stati fatti vedere i moduli sia in home quindi i moduli come questi qua sono quelli appunto di gazzetta di parma ma anche in esplora cioè i cosiddetti carousel in cui uno inserisce le proprie collezioni per far navigare ed esplorare i propri utenti la collezione digitalizzata infine la possibilità di registrazione degli utenti appunto registrazione automatica degli utenti gli utenti cliccano si registrano e poi possono entrare per usufruire liste e storie triple if e di tutti gli altri servizi che di qui alla fine del 2021 andremo a implementare ok pagine di progetto il portale offre la possibilità di scrivere varie pagine informative e sono pagine in html quindi permettono una certa complessità di formatazione inserimento di immagini di video e sono gestite autonomamente tramite il back office come vi dicevo prima sottolineavo per esempio il numero di pagine che sono state fatte da progetto Canova perché secondo me se l'ente ci mette l'impegno e la propria conoscenza il progetto ne giova ne giova molto per cui come dire fa parte proprio dell'aiutare come i metadati aiuta l'utente a capire che cosa sta guardando cosa sta studiando la parte quindi questa è sempre fa parte della configurazione del portale e poi adesso iniziamo a guardare uno dei due elementi uno può dividere uno può pensare a una biblioteca digitale in maniera ultra semplificata come due grossi pezzi metadati ed immagini che sono legati in maniera diversa il primo aspetto che noi andiamo a datalizzare a discutere insieme all'ente che abbiamo appunto discusso con Stefano abbiamo discusso con Michele e guardare per esempio due parametri che si possono guardare ce n'è anche un terzo sono la ricchezza dei metadati e la quantità delle schede cioè la quantità delle opere che uno vuole andare a far vedere c'è un altro come dire un'altra variabile ma non non mi sono fidato a farvi un grafico 3D che è la frequenza di aggiornamento dei dati questi tre parametri possono appunto definirci uno spettro di progetti in base a cui ovviamente sono è come dire è un è un modello mentale non è che effettivamente ci mettiamo a fare i grafici cartesiani però è un modello mentale perché ci aiuta a capire quanto è complesso quanto è complesso un progetto in base alla complessità si possono scegliere repository di metadati diversi per esempio una delle possibilità è quella molto molto semplice di utilizzare come come metadati non so noi accogliamo per esempio un Google Doc un Excel di quindi ogni documento viene descritto in una riga nelle colonne ci sono i metadati quindi titolo autore editore data eccetera e accogliamo quindi ci danno un Excel ci danno un XML noi lo trasformiamo in un in un Excel e poi dopo lo infiliamo nel nostro nel nostro database tutte le volte soprattutto all'inizio che l'ente vorrà modificare qualcosa modifica direttamente o tramite noi questo questo Excel abbiamo più insomma abbiamo anche strumenti diversi e in questo modo quindi dopo noi facciamo di nuovo un import e viene trasformato e viene trasformato e viene aggiornata la piattaforma non è sempre però diciamo che è una modalità questo come dire viene bene per dataset semplici in cui per esempio c'è un solo c'è di fatto una sola un solo tracciato un solo schema di metadati abbiamo visto due progetti in entrambi i progetti noi abbiamo questo caso abbiamo una scheda di metadati perché uno erano quotidiani nell'altro avevamo invece materiale archivistico quindi lettere abbiamo generato quindi uno schema di metadati che fosse a misura di questo di questa tipologia di documento dei dati che ci erano stati consegnati e quindi le due biblioteche digitali funzionano e sono come dire su misura in base a questo non è sempre così mi viene da citare per esempio il caso di EDL cioè l'Estense Digital Library che probabilmente molti di voi hanno conosciuto è stato il primo grande progetto di MLOL e in quel caso abbiamo utilizzato un software multiambito come Arianna for Work di Iperborea che è in grado appunto di gestire molti tracciati noi ne avevamo se non erro tipo 5 5 tracciati 5 schemi di metadati diversi ognuno per tipologia lo spartito musicale la mappa il materiale archivistico eccetera il libro il libro a stampa e tutti questi in questo modo noi abbiamo schede diverse collegate proprio a direttamente ad Arianna che è un software che viene utilizzato negli archivi di tutta Italia e in questo modo tra l'altro poi Arianna rimane in gestione all'ente e poi l'ente quindi decide di continuare il suo decide di continuare a la metadatazione e la pulizia di quei dati direttamente su quel software è quindi come dire un back office che rimane che rimane all'ente e questo proprio soprattutto parla alla ricchezza dei metadati e alla variabile frequenza di aggiornamento se un ente sta pensando una biblioteca sta pensando a un progetto di digitalizzazione continuativo continuato nel tempo in cui continua a digitalizzare dei fondi continua a digitalizzare delle collezioni e sono tutte collezioni diverse allora il progetto come dire va pensato subito in ottica di scala in ottica di arricchimento continuo la scheda come avete visto è la classica scheda di MLOL in cui però noi possiamo prendiamo dati che arrivano da sistemi diversi ovviamente da tutti i sistemi bibliotecari prendiamo questi dati discutiamo con l'ente su quello che deve essere la scheda su quello che devono essere le etichette e quindi cerchiamo di riportare tutto a uno schema di metadati che cerca il più possibile di rispondere alle singole esigenze delle collezioni perché si parte sempre da una collezione e che sia quindi in accordo anche con la ricerca le faccette e tutto il resto della piattaforma MLOL per esempio appunto le faccette faccette filtri che sono le classiche che trovate in alto a sinistra e vengono scelte con lente in base alla collezione e sono soprattutto quelle che più di altro ci fanno come dire sono uno specchio della pulizia dei metadati perché se uno vede effettivamente i valori di tutti queste singole è come vedere i valori delle singole fare un filtro su Excel vedere i valori di una colonna e ogni errore viene a galla tutte maiuscole minuscole duplicazioni eccetera vengono a galla però in questo modo cerchiamo sempre di lasciare la possibilità all'ente di migliorare i propri metadati con l'idea della piattaforma di staging cioè in fase di lavorazione è sempre difficile individuare errori congruenze ma appena uno li pubblica li vede nelle faccette li vede nelle schede per questo una versione di staging che altro non è che una versione beta su cui per esempio per vari mesi con Michele e con Stefano abbiamo lavorato su le loro rispettive piattaforme di staging in cui facevamo capito un tweak facevamo una messa a punto di tutte le cose dei dati dei metadati degli errori eccetera eccetera quindi c'è un discorso di iterazione del processo finché a un certo punto siete entrambi soddisfatti e si passa alla piattaforma di produzione cioè il sito vero e proprio che si può pubblicare si può comunicare promuovere le immagini sono un'altra ovviamente parte fondamentale anche se da bibliotecario abbiamo dato priorità ai metadati e possono essere consegnate in due modalità che sono la spedizione di un hard disk quindi tramite corriere consegna a mano insomma dipende dalla posizione geografica oppure il caricamento su un cloud e abbiamo messo un elenco perché non tutti i cloud in realtà funzionano bene abbiamo avuto delle difficoltà e non tutti i servizi cloud purtroppo sono allo stesso modo efficaci o affidabili e il DAM è un pezzo importantissimo dell'architettura come ho accennato prima e fornisce proprio le immagini come dire è colui che fornisce le immagini quando voi navigate su una scheda guardavamo prima un quotidiano di Parma una lettera di Canova o il cantino la carta del cantino quando facciamo uno zoom quando lo vediamo quando giriamo pagina è il DAM noi stiamo interagendo con il DAM e quindi è una parte fondamentale deve essere deve essere scalabile deve essere deve essere veloce e è anche quella macchina virtuale e fisica che mette insieme metadati di immagini per darci i manifest le immagini rimangono accessibili tramite un back office dedicato che viene fornito che viene fornito all'utente stiamo mettendo le ultimissime cose ma proprio per correggere eventuali errori semplici di ordinamento o di nome e titolo del file a richiesta offriamo anche il servizio di long term preservation per archiviare i master file delle digitalizzazioni così come un servizio di filigrana che può essere o visibile o invisibile un aspetto che sembra banale ma è assolutamente non banale nel senso che ci stiamo accorgendo che è uno dei è uno degli errori che vediamo in maniera più frequente è se volete un come dire un problema molto bibliotecario no quasi quasi fr quasi fr br cioè il livello di descrizione del documento questo perché soprattutto in ambito bibliotecario noi tendiamo a pensare a libri a oggetti culturali a documenti a da un punto di vista quantomeno di manifestazione no se mi permettete di utilizzare il termine appropriato e difficilmente noi invece guardiamo a o descriviamo la materialità dell'oggetto per cui pensiamo soltanto ai classici problemi di un libro in più volumi oppure oppure di opere collettane oppure insomma la divisione no a livelli la relazione tra l'oggetto fisico e la sua descrizione in metadati quindi una domanda assolutamente fondamentale è che cos'è che noi interpretiamo come documento che cos'è che noi vogliamo far vedere nella nostra scheda della nostra biblioteca digitale perché al contrario le immagini sono molto 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 aderenti alla realtà materica no quindi le immagini fotografano cioè le immagini di un libro di un volume di un documento di una mappa di un quotidiano o di un appunto di materiale archivistico come le lettere del Canova guardano quello che c'è e quindi se il digitalizzatore non si fa e questo l'abbiamo visto per esperienza non si fa domande di catalogazione lui fotografa dalla prima all'ultima pagina e quindi nell'organizzazione dell'albero delle immagini che deve esistere un collegamento a quello che sarà poi il database dei metadati o l'excel dei metadati quindi se voi avete appunto un excel in cui ogni riga corrisponde o no però questo excel dovrà poi essere coerente e corrispondente in maniera più univoca con con i con le immagini quindi correnza e per questo che ogni documento deve possedere un identificatore univoco capace di collegare riproduzione digitale ai metadati ok quindi immagini i metadati devono essere connessi da un identificatore che poi appunto porterà tutto sul portale però sottolineo questo questo aspetto perché non come come è capitato in entrambi in entrambi i progetti non so ma anche Michele e Stefano potranno testimoniare bisogna tante volte risolvere dei problemi dei dubbi o delle eccezioni le eccezioni ci sono sempre quindi l'albero del cartello deve essere coerente e ogni cartella deve contenere tutti i file immagini ordinati alfabeticamente quindi noi consigliamo per esempio sempre gli zeri quindi 001 002 003 e l'albero deve essere preferibilmente piatto cioè ogni cartella dovrà contenere solo i file immagini quindi tutte le cartelle dovranno essere una di fianco all'altra come formato delle immagini vi sto dando delle informazioni pratiche ma spero che possano essere utili per quanto banali o semplici e ovviamente la qualità migliore avviene con il caricamento di file master TIFF che viene trasformato in IIIF quindi piramidizzazione compressione automatica delle immagini per fare il IIIF si può in alternativa utilizzare direttamente i file JPEG che sono però già compressi quindi si risparmia magari qualcosa sullo spazio e si riduce la complessità dei tempi di caricamento ma tendenzialmente si riduce spesso anche la qualità bisogna sempre vedere con cosa si ha a che fare e l'ultima piccola cosa per il pregresso soprattutto in passato si facevano foto a doppia pagina è ovvio che noi lavoriamo anche con queste ma è sempre preferibile che le immagini siano a singola pagina abbiamo fatto come è appena stato raccontato anche un progetto abbiamo iniziato questo servizio aggiuntivo dell'OCR noi preferiamo sicuramente lavorare soltanto con l'indicizzazione dell'OCR che viene generato dall'ente durante la digitalizzazione solitamente è la cosa migliore perché comunque è anche un servizio che viene offerto molto molto spesso da tutte le ditte che digitalizzano però il formato al momento supportato da AAAIF è HOCR quindi non tutti gli OCR sono compatibili con AAAIF finisco con questa slide che renderà felice Pandini la slide è uno scherzo ma è anche vero nel senso che ci siamo resi conto insomma nell'anno e mezzo nei due anni in cui abbiamo iniziato a fare questi progetti che ci sono moltissimi problemi piccoli e grandi questa cosa degli identificatori del collegamento tra metadati e immagine è uno di questi e quindi bisogna lavorare insieme in stretta collaborazione con lente per risolverli quindi a volte personalizzare una faccetta o la ricerca avanzata altre volte è chiedere al lente di migliorare insieme aiutarsi a migliorare una colonna di metadati perché devono essere puliti altre volte invece è trovare una soluzione creativa o meno perché effettivamente c'è una non c'è omogeneità non c'è coerenza nei metadati o nelle immagini penso sia un come dire un come dire un qualcosa che che cerchiamo di fare bene di risolvere assieme assieme agli enti e assieme appunto i nostri i nostri collaboratori tutti i problemi che 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 vengono fuori necessariamente quando effettivamente si tirano fuori delle immagini dagli hard disk e dei metadati da qualsiasi sistema di catalogazione grazie mille grazie grazie Andrea grazie signor Wolf grazie davvero a Stefano Paglientini a Michele Corsello siamo andati decisamente sulla tempistica ma siamo quasi tutto il nostro pubblico è rimasto è rimasto con noi fino ad oggi lascio fino adesso lascio ancora qualche secondo in caso ci sia qualche domanda che volete che volete porre ai nostri relatori ai quali chiedono in frattempo se per caso vogliono aggiungere qualcosa a quanto ho già detto non mi pare che ci siano delle domande quindi direi che possiamo sicuramente chiudere la chiudere la 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 sessione e ringrazio di nuovo tutti quanti per la vostra presenza a presto grazie a voi grazie a tutti grazie